Castellabate ha aperto il nuovo anno con l'orchestra mandolinistica napoletana in un concerto realizzato nella chiesa di San Marco Evangelista che ha visto interprete impeccabile il tenore Pietro Quirino. L'evento rientra nel progetto Castellabate il luogo dell'incanto, la rassegna culturale realizzata dal comune nell'ambito del POC Campania 2014-2020 e che ha avuto lo start già il 19 dicembre con Donna Madonna nella chiesa Maria Santissima Immacolata di Lago con Fiorenza, Calogero e Marcello Colasurdo e Paese Mio Bello nella Basilica Pontificia di Castellabate con Gianni Lamagna Questa è la terza serata di Castellabate il luogo dell'incanto, oramai il luogo dell'incanto è quel brand che ci caratterizza e mi fa molto piacere perché effettivamente Castellabate oggi è etichettata ed è conosciuta si sta anche divulgando questo nostro brand come Castellabate il luogo dell'incanto dicevo è la terza serata appunto di un progetto di destagionalizzazione stasera è un'eccellenza di un'arte napoletana, un'arte musicale napoletana molto molto antica appunto è l'orchestra mandolinistica napoletana accompagnato di un tenore molto importante che è Pietro Quirino quindi la terza serata ma questo progetto continuerà perché con cadenza quasi mensile perché a febbraio è un'occasione delle festività di San Costabile Gentile Core avremo un altro evento nella chiesa nella Basilica Pontificia di Castellabate a marzo la stessa cosa in occasione delle giornate del FAI avremo quindi ogni mese fino a giugno, fino al primo giugno ci saranno mensilmente degli eventi importanti è un modo per ravvivare la bassa stagione e il tutto si concluderà appunto il primo giugno con la presenza di un attore importantissimo che è Giancarlo Giannini e diciamo è la prima volta che cerchiamo di portare avanti questo discorso di destagionalizzazione ma io ho avuto modo anche di dirlo in altre occasioni l'amministrazione ce la sta mettendo tutta nella promozione in questi interventi che servono appunto ad attrarre magari un turismo non quantitativo ma di qualità nel periodo di bassa stagione ma è evidente che va a fatto un gioco di squadra un gioco di squadra che parte dagli operatori economici presenti sul territorio dagli operatori commerciali, dagli operatori dei pubblici esercizi, dagli alberghi agli albergatori perché è evidente che per parlare di destagionalizzazione noi dobbiamo fornire un'offerta turistica qualificata anche nel periodo di bassa stagione quindi io mi auguro che questo esperimento andrà avanti anche per i prossimi anni perché porteremo avanti sicuramente questa partecipazione ai POC e mi auguro che troveranno i turisti che sceglieranno Castellabata nel periodo invernale ma anche in bassa stagione da gennaio, febbraio, marzo fino ad aprile troveranno un paese accogliente con tutti i servizi come merito un paese che vuole fare turismo 12 mesi all'anno ma anche da neri che stagione da pavano scherziano e alla buccia da riddata ma pinna ma fašaia reddita ma smardona stagione da stagione da stagione da stagione da stagione da stagione da stagione Gli appuntamenti proseguiranno fino a giugno 2019 con una serie di iniziative interessanti Il 15 febbraio abbiamo puntato su una delle realtà più belle del nostro territorio dal punto di vista musicale e artistico l'orchestra giovanile dei fiati del Cilento questo laboratorio, questa fucina di giovani musicisti che saranno il futuro è la vera essenza artistica del nostro territorio grazie anche ai maestri Capezzuto e Schiavo che incessantemente dietro un lavoro oscuro del concerto bandistico Santa Cecilia stanno portando avanti e saranno protagonisti proprio il 15 l'antivigilia dei festeggiamenti di San Costabile nella Basilica Pontificia